pace bene a tutti ecco ringraziamo veramente gesù della sua presenza e questo quinto giorno della novena di san michele arcangelo e veramente abbiamo l'assistenza continua di san michele cambrele raffaele dei nove cori angelici e in questi giorni stiamo proprio seguendo alcuni iscritti di padre amort che ci aiutano proprio in questa novena e adesso vogliamo veramente raccoglierci tutti nella grotta di monte sant'angelo ci mettiamo dentro questa grotta e qualunque intenzione portiamo nel cuore la consegniamo proprio sull'altare della grotta dove sta poi dietro c'è proprio la statua di san michele arcangelo tutte le intenzioni le consegniamo sull'altare a gesù e oggi in particolare sento di dover fare questo tipo di di annuncio allora in questi giorni abbiamo pregato per la liberazione e di mali anche di di malefici di cose fatte sui figli e così via però vedete padre amort e ci racconta nei suoi libri che spesso questi mali che vengono fatti attraverso l'intervento del demonio per questo sono chiamati malefici che significa l'arte di di nuocere attraverso il demono proprio perché fanno dei rituali dove chiamano i demoni affinché questi mali arrivino a scopo no e padre amorte parla appunto di diversi malefici no maledizioni fatture le piature e così via già l'ho detto in altre occasioni ma una cosa molto delicata e per cui possiamo chiedere e è quella che a volte ci sono delle cose di tipo sensibile come dei capelli delle cose che si trovano nei cuscini che rappresentano proprio sensibilmente la volontà di nuoscere di chi ha fatto il maleficio gli esorcisti nei loro libri testimoniano questo no e basta leggere appunto i libri di padre amo prima di tutti gli esorcisti e si trovano a volte alcune cose vengono a volte proprio messe più vicino possibile alla persona addirittura vengono fatte messe in cibi che poi la persona proprio mangia affinché proprio li abbia più vicino possibile cioè dentro lo stomaco no ma ci sono altre che vengono fatte magari in altri posti per esempio quando si usano delle delle immagini delle bambole che rappresentano la persona e si usa il metodo dell'infezione no quando si vuole procurare un dolore una persona e si usano questi metodi anche da lontano allora una cosa molto difficile e a volte è ritrovare proprio questi oggetti sensibili che se vengono trovati che ne sono i cuscini nei materazzi o vengono individuati in qualunque modo in casa addirittura a volte vengono sotterrati nei cimiteri basta leggere le storie degli esorcisti e queste cose vanno distrutte no e padre amo ti insegna che quando si trovano bisogna pregare a spergere con l'acqua esorcizzata e poi lontano da casa in posti aperti bisogna bruciarli e gettarle polveri nei corsi d'acqua questo è il metodo tra virgolette più efficace più sicuro no è biblico se voi guardate mosè quando ha distrutto il vitello d'oro dopo che è tornato dalla montagna ha trovato che gli israeliti avevano fatto loro dio il vitello d'oro mosè ha seguito proprio questo tipo di cosa perché quello era come un maleficio col vitello d'oro e lui l'ha preso lo ha distrutto lo ha bruciato e poi l'ha gettato nell'acqua basta andare a vedere proprio questo questa cosa è biblica proprio no allora quando è possibile e si trovano queste cose bisogna seguire questo questo modo questo è il modo ordinario ma io una volta da un esorcista ho imparato una cosa che mi ha tanto colpito e questo esorcista quando non si riuscivano a trovare queste cose ordinava ai demoni stessi di andarle a prendere dove erano e di gettarle nei fiumi no oppure praticamente si chiede a dio che li faccia venire fuori affinché si trovi e uno se ne libera in maniera ordinaria no però a volte ci sono delle cose che si possono prendere e gettare nei fiumi e lui lo ordinava i demoni stessi i quali soffrivano tantissimo questa cosa perché era un'umiliazione tremenda per loro che loro stessi costretti dalla potenza di dio dovevano andare a prendere questi segni sensibili dei malefici delle maledizioni e così via e loro stessi le dovevano buttare i fiumi quindi diventavano loro che erano stati gli autori erano quelli che erano costretti dalla potenza di dio umiliati praticamente a libera a fare questo e guardate vi assicuro che ho visto con i miei occhi che la cosa veramente funziona perché veramente l'autorità di dio comanda i demoni veramente non si scherza allora dato che però questo esorcista ancora un anno fatto santo e ho voluto cercare una conferma in una persona che invece è già venerabile perché io sono molto cerco di essere il più possibile attento a quello che insegno e quindi allora questa persona è un passionista che si chiama paolo de gruttis e è venerabile già non è solo servo di proprio venerabile quindi ci poi sarà beato e santo se ti vuole lui era un grandissimo confessore è nato in abruzzo a rocca vivi aquila e lui era passionista ed era confessore un grandissimo esorcista che ha scritto addirittura un manuale per esorcisti beh lui nel libro che si è scritto della sua vita dai passionisti proprio si rivela che lui per umiliare i demoni gli diceva adesso qua vicino ci sono le paludi tutta stanotte pulirete le paludi e la mattina dopo le trovavano pulite oppure ordinava i demoni di suonare l'organo in chiesa in onore del signore quando stava in esorcismo proprio per dare gloria a dio e scornare i demoni no e i demoni erano costretti ad obbedire allora qui c'è un principio molto importante uno deve seguire sempre la strada ordinaria quindi se li trova come diceva triamol te li asberge li brucia li butta nell'acqua e così via ma quando non è possibile trovarli noi possiamo chiedere oggi per intercessione dei santi michele gabriele e raffaele chiediamo che loro come san michele ha gettato come folcore satana dal cielo l'ha fatto precipitato sulla terra così chiediamo che san michele mandi i suoi ageli a comandare veramente ai demoni di prendere veramente questi queste cose e o praticamente gli angeli con loro ministero facciano scoprire questi sensibili in modo che si distruggono in maniera ordinaria oppure se non è possibile perché dio decide diversamente chiediamo che costringano i demoni stessi e secondo la volontà di dio a prendere e gettare nei fiumi queste cose affinché siano distrutte non possano più essere usate contro le persone io con i miei occhi a parte la conferma di questo venerabile che se uno si compra il libretto dei passionisti può leggerlo ma l'ho visto con i miei occhi l'efficacia di questa cosa perché per i demoni è un'umiliazione terribile quella di dovere loro stessi prendere che ne so una bambolina che sta in un posto e gettarla in un fiume è un'umiliazione terrificante perché loro sono amano fare il male e quindi costretti da dio invece a fare un qualcosa che poi farà bene per loro è un'umiliazione terribile quindi ecco naturalmente lo chiederemo agli angeli di farlo è c'è nel senso non è che noi non siamo esorcisti quindi lo chiediamo agli angeli che lo possono fare se secondo la volontà di dio che comandino ai demoni che sono stati coinvolti nei nostri malifici i nostri mali a loro stessi di dover prendere questi segni sensibili del male e di liberare di liberare da questi segni come cristo gli comanda così siamo tranquilli no così è perfettamente perché secondo la volontà di dio quindi poi dio decide se farlo scoprire in maniera ordinaria e allora uno se ne libera in maniera ordinaria oppure se dio concede una grazia di questo tipo è veramente una grandissima grazia io ho visto delle persone veramente ho visto fare questo e funziona veramente perché l'autorità di dio c'è veramente i demoni devono veramente obbedire e non c'è una delle umiliazioni più grandi è questa per i demoni dover loro stessi fare da raccoglitori delle schifezze che hanno fatto e loro stessi buttarle è come se uno prende un mafioso che che ne so ha messo da parte una casa di armi per fare un attentato viene scoperto e si costringe sotto la vigilanza degli angeli che ne so in questo caso dei polizzi occhi o dei carabinieri quello che è andare in quella casa prendere le armi metterle nei sacchi andarla a buttare che ne so in un posto in modo che non si possono più usare è un'umiliazione penso che più grossa del così napo avendo emono è l'umiliazione proprio è una cosa terrificante allora oggi chiediamo questo dono perché sapete non è facile a volte si trovano queste cose che quando si prega si fanno le preghiere di liberazione le preghiere di esorcismo succede che praticamente le cose vengono fuori ma non sempre è così e si raccontano e che a volte le cose vengono sotterrate come un racconto di padre a morte padre canno dove una cosa era sotterrata in una campagna sotto un albero a quasi un metro e mezzo di sottoterra e quella se il demonio sotto interrogatorio non avesse indicato questa cosa per carità come dice padre a morte poi molto importante quello che conta è la preghiera e la fede perché pure se non si trovano queste cose la persona si può liberare lo stesso questo è quello che dice veramente da morte però ordinariamente se si trovano praticamente è bene liberarsene no perché proprio mosefe cioè così col vitello d'oro e praticamente loro distrusse e lo buttò nell'acqua proprio in un corso d'acqua dice no allora oggi chiediamo questo dono dentro la grotta di san michele sotto la protezione assoluta veramente di san michele degli angeli chiediamo che loro se dio glielo comanda costringano veramente i demoni ad essere umiliati nella maniera che più decide ma veramente con questa intenzione cioè che tutti i segni sensibili di mali di malefici di cose siano veramente distrutti e distrutti definitivamente proprio o facendoli proprio come gli angeli permetteranno magari con loro ministero di farli trovare oppure costringendo i demoni a buttarli nei fiumi oppure saranno gli angeli stessi a farlo no però chiediamo questo dono poi decidere a dio come fare come più umiliante per il demonio e più per la gloria di dio allora questo è questo passionista appunto fortunato di gruttis era una cosa veramente impressionante guardate dava delle umiliazioni ai demoni dove ho detto addirittura gli ha fatto puli e paludie quindi cioè è un venerabile non era né un pazzo e ne praticamente hanno ricoverato quindi naturalmente sono cose particolari però se uno ci pensa bene e come dio ha comandato al centurione di guarire a distanza che impedisce che gli angeli possano comandare i demoni in qualunque luogo della terra di fare una cosa che siano costretti a farla no come quando san raffaele cacciò a smoteo dalla casa di sarah e tobbia e a smoteo se ne ha nato così nulla vieta che gli angeli possano umiliare i demoni anche proprio per il bene degli esseri umani per liberarli da tutti i segni malefici da cui gli esseri umani possono essere stati colpiti guardate è una cosa tanto importante e io nell'esperienza che ho visto leggendo altri sacerdoti altri esorcisti tre sono le cose importanti per liberarsi da un maleficio da un'azione straordinaria del demonio uno è proprio fare una preghiera specifica per spezzare il legame che attraverso quel segno sensibile si è creato con la persona con le sue cose con la sua casa quindi nel nome di gesù rinuncio a ogni legame che si è creato fra me le mie cose la mia casa e satana attraverso questo maleficio attraverso questo segno sensibile attraverso questi nastri colorati che ho trovato che ne so dentro il divano oppure attraverso queste piume che ho trovato dentro i cuscini insomma quello che uno può aver trovato no questa è la prima cosa molto importante e sottinteso che poi quando si è libera ho detto bisogna fare come diceva adriamort cioè a leggere tutto quello che avevo detto però spiritualmente è molto importante recidere il legame perché queste cose vengono fatte per creare un legame tra la persona e il mondo delle tenebre naturalmente non è il legame colpevole perché la persona non c'entra niente è una cosa che subisce e poi l'altra cosa è quella che se si trovano appunto cioè sei libero ordinariamente come ho detto oppure uno può chiedere nessuno vieta e addio e agli angeli a dirgli angeli santi io non so dove stanno queste cose sensibili se ce so ma se ce so vi supplico prendetele voi e distruggetele buttatele nei fiumi oppure costringete i demoni ancora se è più umiliante per loro appunto a farlo però ecco nessuno vieta di poter chiedere nell'intercessione questa grazia ed è una grandissima rivelazione perché vi assicuro che funziona io ho visto con i miei occhi i demoni quando l'esorcista gli comandava di togliere e di andare a prendere che ne so nel cimitero quella cosa di prendere le potele ai fiumi il demonio urlava come un maiale sgozzato perché sapeva che lo sorcista c'era l'autorità per farlo e lo doveva fare cioè perché l'autorità c'è noi abbiamo l'autorità naturalmente l'esorcista lo fa così noi visto che siamo tante persone che ascoltiamo e il modo di farlo è chiedere che lo faccia a dio mandando i suoi angeli no è il modo migliore più sereno per tutti perché comunque è una cosa delicata ed è bene che ci affidiamo alla decisione diretta di gesù e naturalmente lo fanno gli angeli in modo che se la vedano direttamente col loro con i demoni perché loro li possono appunto vincere legare tutto quanto no e allora ecco oggi io chiedo proprio l'intercessione di questo venerabile così come si può chiedere in forma privata insomma e di padre dei bruttis fortunato perché veramente oggi interceta presso i santi michele gabriele raffaele nove cori angelici perché questi grandi arcangeli i nostri angeli custodi oggi veramente si diano da fare per liberare la nostra vita da tutte queste cose brutte sapete perché vi dico questo perché a volte i malefici sono addirittura messi nelle fondamenta delle case o dentro i muri e quindi quando li trovi a meno che non ci sia un'indicazione sotto esorcismo del demonio ma è difficilissimo e trovarli perché a volte sono solterrati messi nelle cose cose che praticamente e allora invece come in maniera preternaturale i demoni l'hanno messi in a carini o nei cuscini nessuno vieta che gli angeli comandi nei demoni di toglierli loro a scorno loro e questo è quello che faceva padre fortunato di bruttis che praticamente comandava i demoni di fare qualcosa al loro scorno per il bene delle persone gli faceva pulire i paludi perché quello era un bene per gli esseri umani e per la gloria di dio che così si vedeva veramente che l'autorità del signore e l'autorità sempre nei cieli sulla terra sotto terra dio comanda nei cimiteri comanda da tutte le parti non è che perché c'è la distanza di non comandali dio è onnipresente ed essendo onnipresente lui presiede in tutti i luoghi e quindi può comandare è sempre lui che decide e quando il demonio vuole colpire giobbe per tre volte deve chiedere il permesso a dio perché altrimenti non si poteva neanche muove come dice sant'antonio abate il demonio senza il permesso di dio quindi noi sappiamo che dio governa in tutti i luoghi il signore in tutti i luoghi anche quelli sottoterra se hanno sotterrato la cosa non c'è problema dio la vede non a caso nella preghiera che vi ho mandato di san cipriano quella autentica proprio che si prende dalla liturgia orientale si dice proprio di liberarci dalle cose che sono sulla terra sotto terra e così via allora ecco adesso abbiamo messo tutte le nostre intenzioni sull'altare ma oggi mettiamo tutti insieme questa e cioè che se fossimo colpiti da queste cose ci fossero ancora dei segni sensibili nelle case nelle persone in qualunque luogo oggi gli angeli si incarino proprio di andare a distruggere questi oggetti sensibili vi ricordate quando elia offrì il sacrificio e stava combattendo con i 400 profeti di bal l'angelo fece prendere a fuoco il sacrificio così nulla vieta che gli angeli possano far prendere a fuoco i malefici e gettarli poi nei fiumi perché noi seguiamo sempre la maniera ordinaria ma quando la maniera ordinaria non è possibile è lecito chiedere che dio per il bene delle anime intervenga in maniera anche straordinaria allora ecco facciamo proprio un attimo di silenzio e vogliamo veramente pregare adesso e per chi per chi ha questo dono adesso preghiamo in lingue e perché veramente questa preghiera dello spirito santo possa ottenerci così come dio dispone né di meno né di più ma solo come dispone lui queste grazie che abbiamo chiesto la distruzione di tutti i segni sensibili distruzione e liberazione di tutti i segni sensibili di mali straordinari satanici che ci possono aver fatto a noi o la nostra famiglia o a qualunque cosa ci può appartenere ma siamo tutti nella grotta Paria Katariyama Kasunya Katariyama Katasirya Katashurya Katariyama Katashurya Ikiriyama Kushanya Katurya Makatusharyya Katariyama Katusharyam Ikiriyama Kussarya Kushanya Katariyama Kushanya Aramako vs Aniakataryama Kutashushulya Ukasunya Katariyama Kutashushulya Katariyama Katsiri Kutashandriyama Ikamasyush rumah Kijair iagis Ikariyama Sisy Caratika Ietariha Ukasunya Untane Kateryama Ukarriama Kusana Spirito di Dio, scendi su di noi, fondisci, plasmasci, riempisci e usasci, Spirito di Dio, scendi su di noi, grazie Spirito Santo perché stai veramente rispondendo a questa preghiera, i tuoi angeli stanno andando veramente per la misericordia di Dio a operare queste meraviglie per liberare i figli di Dio dalla schiavitù, come disse Gesù a quella donna che aveva l'infermità, questa figlia di Abramo che Satana teneva schiava non doveva essere liberata il giorno di sabato? Ecco, e noi siamo figli di Abramo, lo dice Galati 3, e noi abbiamo diritto a essere liberati dalla schiavitù per il sangue che Gesù avversava, per questo sangue chiediamo che Dio ci liberi dalla schiavitù e da tutti i pendagli e i segni sensibili della schiavitù che ancora possono essere sulla terra o sottoterra in qualunque luogo proprio dell'universo. Grazie Signore Gesù, lode e gloria a te Signore per quello che stai facendo Signore Gesù, grazie per questi santi, questi venerabili che ci insegnano queste cose che altrimenti neanche noi potremmo praticamente immaginare, almeno io. Proprio a conferma di questo vi porto l'esempio di un altro santo, un giorno il demonio tormentava tanto Santa Gemma, questo lo potete trovare nella vita di Santa Gemma scritto da Padre Germano, e Padre Germano, che o è beato o è santo già, chiese all'angelo custode di andare a prendere il demonio e di portarlo davanti al Santissimo Sacramento in chiesa dove lui si trovava, lui aveva ricevuto il mandato di fare l'esorcista e fece legare il demonio dall'angelo, lo fece mettere davanti al Santissimo Sacramento e ha detto che quegli esorcismi lo massacrò, proprio perché tormentava Gemma. Quindi queste cose sono state fatte anche da persone sante che lo facevano non perché erano strani, ma perché credevano che dia autorità in tutti i luoghi. E lui proprio ci ha scritto e meraviglioso, si raccontò, per più volte ha fatto questo Padre Germano, chiedeva all'angelo custode di andare a piedi al demonio che tormentava Gemma. Se lo faceva portà davanti al Santissimo Sacramento in chiesa dove lui stava a costola, talare e il libro degli esorcismi, e poi lo esorcisava, lo sfonnava, ha detto. Così si imparava a tormentare Gemma e la dova la sciampace. Santa Gemma, naturalmente. E lui, se non mi sbaglio, è già beato o santo. Quindi noi possiamo chiedere agli angeli questo aiuto meraviglioso e loro lo faranno. E poi si vedrà dai frutti, tanto perché è confermato dai santi, ma si vedrà poi dai frutti. Adesso finiamo proprio affidando tutto e consacrando veramente noi stessi tutto quello che ci può appartenere, tutto quello che si libera a San Michele e i nove cori angelici. San Michele, Arcangelo, difendici nella lotta. Sei tu il nostro aiuto contro la malvagità e l'insidio del demonio. Sopplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, Principe della Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'infarno Sadana e gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo per perdere le anime. Amen. Grazie Signore Gesù, perché veramente tu distruggerai tutti questi segni sensibili e a posto di questi segni sensibili, come dice nella scrittura, a posto della cenere, del segno del lutto, ci dà invece il segno della gioia, l'olio di Letizia, lo Spirito Santo. Noi siamo chiamati a rivestire i segni della libertà dello Spirito Santo, non quelli della schiavitù. Quindi adesso chiediamo che tutte le cose distrutte siano sostituite in noi dai segni invece dello Spirito Santo, quindi dalla pace, dalla gioia, si rinnova in noi sempre più il sigillo dello Spirito Santo, perché noi dobbiamo portare i segni della libertà dello Spirito Santo, non della schiavitù. Pace e bene a tutti e vi benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.